Prima di iniziare a parlarvi voglio premettere che questo video non sarà monetizzato. Ciao a tutti ragazzi, oggi vi faccio questo video breve ma molto 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 importante poiché vorrei dare per quanto mi è possibile una mano per la divulgazione di questa iniziativa. Come ben saprete purtroppo qualche notte fa è successa una disgrazia al centro Italia, molti paesi sono stati rasi al suolo, ci sono un sacco di vittime, un sacco di feriti ma per fortuna anche un sacco di sopravvissuti e chi mi segue su Telegram e Instagram avrà visto appunto che ho condiviso delle foto direttamente dal profilo Twitter della Croce Rossa per poter dare una mano alle persone colpite appunto dal terremoto che sia tramite donazioni di sangue, che sia tramite donazione su IBAN quindi bonifico bancario o un SMS oppure una donazione tramite Paypal. Ho seguito un programma in televisione in diretta dove davano queste varie informazioni ho cercato di darle anche su Telegram per chi non aveva magari Twitter o per chi non stesse guardando la televisione se voleva dare una mano. Io con la mia famiglia ho già contribuito a sostenere queste varie iniziative però oggi ci terrei ad unirmi alla mia seconda famiglia ovvero Tom's Hardware che appunto è il mio network in questa raccolta fondi messa in piedi da Ciccio Gamer quindi da Mirko assieme appunto a Tom's Hardware e si tratta appunto di una raccolta fondi tramite il sito Eppela vi lascerò il link sia in descrizione che nel primo commento sotto al video quindi vi chiederei di mettere like a quel commento per farlo andare in risalto quindi fra i popolari e mantenerlo in cima alla lista dei commenti. Si tratta appunto di una raccolta fondi dove la donazione minima è di 5 euro dopodiché potete scegliere fra dei valori che sono stati lì preimpostati o mettere un importo vosso che più preferite. Di solito sono sempre stata abbastanza scettica su siti di donazioni, raccolta fondi, cose del genere infatti ho preferito fare in maniera differente con donazione tramite SMS e tramite Paypal direttamente all'ente nominato in televisione. Questa volta mi sono unita anche io a questa iniziativa perché so chi c'è dietro so chi l'ha messo su e so, sono sicura che questi soldi andranno a chi di dovere. Pochi euro a testa non fanno la differenza ragazzi non è molto per noi ma potrebbe fare la differenza per coloro che sono stati colpiti dal terremoto quindi io vi invito a donare se ne avete la possibilità anche appunto con la donazione minima ma comunque l'unione fa la forza come ha detto Jacopo le parole purtroppo non rimettono in piedi degli edifici o delle città o dei paesi interi le parole purtroppo non aiutano i feriti e le parole purtroppo soprattutto non danno non ridanno vita alle persone che l'hanno persa sotto quelle macerie. Quindi penso che l'unico modo sia dare una mano attiva, dare una mano concreta affidandosi e avendo del buon senso nei confronti di queste iniziative. Come spiegato nel video di Mirko appunto questa volta YouTube Italia si deve unire, si deve attivare e assieme a YouTube Italia anche chi la segue quindi voi che guardate questi video. possiamo finalmente fare qualcosa di bello e di concreto senza stare lì sui social a condividere in continuazione parole inutili, pensieri inutili, critiche o insulti addirittura nei confronti di chi organizza queste iniziative e quindi vorrei concludere questo video con una frase che mi ha colpita che ho sentito dal video di Iachidale, Jacopo di cui parlavo prima ovvero non chiedetevi chi sono gli altri per essere aiutati ma chiedetevi chi siamo noi per non aiutarli.